Eccoti, allora che stai facendo? La pizza a fiocco Ah, e vai, va Ma che stai facendo? Ma tu mi hai la pizza a fiocco? La pizza a fiocco? Ma tu vedi che ti chiamo Salvatore? Sì, ma no, escusa Ragazzi, vado a fare la pizza a fiocco Ma nell'acquisito, dai Vai Grazie a tutti